Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliori cucce per gatti. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Pappy Kitty. La cuccia per cani e gatti con Bupet è un'ottima scelta per mantenere i vostri animali domestici sani e salvi. La cuccia ha un design robusto e durevole che non solo ha un bel aspetto, ma è anche facile da montare e pulire. È dotata di doppie uscite per la sicurezza e il comfort del vostro animale. Realizzata in materiale EVA di alta qualità, è impermeabile, leggera, isolante e resistente. Questo gioco per animali è robusta e durevole, realizzata in materiale EVA di alta qualità, impermeabile, leggero, isolante e resistente. La cuccia è dotata di un design a doppia uscita per garantire la sicurezza e il comfort del vostro animale quando siete lontani. È facile da montare e da pulire, il che la rende un'ottima scelta per i genitori impegnati. Numero 4, Trixie 43144. Questa cesta per cani da termosifone Trixie è realizzata in metallo ed è dotata di un cuscino double face con, imbottitura in poliestere non tessuto. L'imbottitura in peluscia assicura che il vostro animale domestico si senta a proprio agio nella sua nuova casa. La solida struttura fa sì che la cesta rimanga in posizione anche quando il cane salta o gioca con i suoi giocattoli. Questo modello può essere regolato per adattarsi a tutti i tipi di radiatori, da 9 a 11 cm di spessore. La cesta per cani Trixie Radiatore è la soluzione perfetta per i sonnellini accanto al termosifone. La struttura in metallo è regolabile per adattarsi a tutti i tipi di radiatori ed è dotata di un cuscino, rimovibile e lavabile con una comoda imbottitura in peluche. Questa cesta è ideale per cani di piccola e... Terzo posto c'è Curver Pets Cosi. Questa cuccia di alta qualità, facile da pulire, è realizzata in plastica resistente ed è perfetta per il vostro animale domestico. Le dimensioni sono 54 x 54 x 19 cm, il che la rende perfetta per la maggior parte degli animali. La cuccia è inoltre dotata di una comoda maniglia per il trasporto, in modo da poterla portare facilmente con sé in viaggio. Questa cuccia di alta qualità è facile da pulire, è realizzata in plastica resistente ed è perfetta per il vostro animale domestico. Le dimensioni sono 54 x 54 x 19 cm, perfette per la maggior parte degli animali domestici. La cuccia è dotata anche di una comoda maniglia per il trasporto, in modo da poterla portare facilmente con sé in viaggio. La cuccia è anche facile da montare e smontare, in modo da poterla portare con sé ovunque. Numero 2. Cuccia per gatti. La cuccia per gatti quarantesimo cat bed, anche per gatti grandi è un letto per gatti molto grande, rotondo e stabile. Le dimensioni di questo letto possono ospitare qualsiasi animale domestico, dai gattini ai gatti adulti. L'esterno di questo letto è realizzato in robusto feltro, mentre l'interno in lana rimane morbido. Ideale per i vostri quattro il letto è abbastanza grande da poter essere condiviso da due gatti. Se avete un gatto grande o gigante, questo è il letto perfetto per lui. Il letto per gatti quarantesimo, anche per gatti grandi può ospitare animali domestici di qualsiasi taglia, dai gattini ai gatti adulti. L'esterno di questo letto è realizzato in robusto feltro, mentre l'interno in lana rimane morbido. Ideale per far accoccolare il vostro amico a quattro zampe. Fine, il numero 1 della nostra lista, Curver Cosi Cuccia. La cuccia per cani e gatti Curver Cosi è una cuccia a due livelli di alta qualità, realizzata in plastica resistente. Le dimensioni di 57,7 cm di larghezza, 56,5 cm di profondità e 33 cm di altezza la rendono perfetta per la maggior parte dei gatti o dei cani di piccola taglia. La cuccia è dotata di un morbido cuscino di sabbia per offrire al vostro animale domestico maggiore comfort e sicurezza. La cuccia è facile da montare e da pulire. La cuccia per cani e gatti Curver Cosi è un ottimo modo per tenere il vostro animale domestico al sicuro e a suo agio. La cuccia per cani e gatti Curver Cosi è il modo perfetto per tenere il vostro animale domestico al sicuro e a suo agio. La struttura in plastica resistente e di alta qualità è perfetta per la maggior parte dei gatti e dei cani di piccola taglia. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.